In studio, Veronica Puglisi. Per la prima volta insieme in conferenza stampa Movimento 5 Stelle, Sud Chiama Nord e Partito Democratico a Palazzo De Normanni perché le tre forze di opposizione all'Asse stanno costruendo un comitato di liberazione della Sicilia dai comitati d'affari perché, dicono, in ogni segmento dell'amministrazione di questa regione c'è un comitato di liberazione della Sicilia. Una visione lobbistica, politico, mafiosa e affaristica. Dunque sarà un progetto che dovrà partire almeno due anni prima della scadenza naturale di questa legislatura, lavorando con uno schema ufficiale e trovando la sintesi per coinvolgere territori ed elettori. Così dunque le parole di Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord, di Michele Catanzaro, capogruppo del PD all'Ars e di Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Ars. Se noi riusciremo a portare avanti, come ne sono convinto, questo dialogo dovrà nascere un programma unitario che mette da parte le differenze ma crea una visione di Sicilia che sia condivisa con i siciliani, con il territorio, quindi ampiamente discussa, che parta per tempo e che sia riconoscibile come un'unica offerta politica e non come un accozzaglio, una somma di voti, una somma di candidati, una somma di liste che invece è quello che ha prodotto il governo Schifani. Stiamo dimostrando che il nostro lavoro è sicuramente alternativo a questo governo, ha evidenziato il capogruppo del PD Michele Catanzaro. C'è una coalizione di destra-centro che rimane in piedi solo per la gestione del potere, non per gli obiettivi e i temi che interessano i siciliani. Sono tante le cose che questo governo Schifani immaginava di poter realizzare però in questo anno non abbiamo visto granché, abbiamo visto forse nei tre, quattro strumenti finanziari un avvicendarsi di posizionamenti o qualcosa che arriva nei territori però pensando non al bene dei siciliani in prospettiva a quello che sono le categorie produttive dove intervenire ma pensando e concentrandosi forse soprattutto nell'ultima finanziaria a quello che è la campagna elettorale delle prossime europee. Noi tre insieme siamo la maggioranza dei siciliani, lo dicono i numeri. In questo momento dunque la Sicilia è governata da una minoranza. In un anno le assenze dall'aula di Schifani sono da record. Mai si era visto un presidente della regione che non partecipa neppure alle sedute della legge di bilancio e che si presenta in aula quando deve intimorire e intimidire i suoi alleati. Vediamo Schifani cosa fa, cioè non compare mai, si fa le sue trattative con lo Stato e continua a svendere quelle che sono le risorse dei siciliani proprio ai poteri forti come sta facendo per il ponte sullo stretto di Messina. Attenzione puntata anche sugli appuntamenti elettorali, per le europee si vota col proporzionale, ogni partito punterà a massimizzare il proprio risultato. Noi ci saremo, ha detto Cateno De Luca, il 2 marzo ufficializzeremo la nostra scelta. Ringrazio per la disponibilità simpatica dei colleghi parlamentari di PD e Movimento 5 Stelle per un'ipotesi di collaborazione. Noi andiamo avanti perché è giusto che ci organizziamo. Ha concluso Cateno De Luca. Torniamo ad occuparci del caso di Filippo Mosca, detenuto in Romania da maggio in condizioni non compatibili con la dignità umana, come da mesi denuncia la mamma Ornella Matraxia. Su questa vicenda si sono registrati due interventi istituzionali, uno al Parlamento europeo e uno all'Arsi. Il processo d'appello intanto inizierà non più ad aprile, ma il 7 marzo. Dal Parlamento europeo di Strasburgo a quello siciliano di Palazzo dei Normanni. È approdato finalmente nelle aule e sui tavoli delle istituzioni il caso di Filippo Mosca, il 29enne di Caltanissetta rinchiuso in un carcere romeno da maggio, a seguito di una condanna per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, è detenuto in condizioni disumane tra violenze e totale assenza di igiene nel carcere di Porta Alba a Costanza. È il caso di Filippo Mosca, un ragazzo siciliano, italiano, europeo, detenuto anche lui in condizioni disumane nel carcere di Porta Alba di Costanza sulla base di un iter processuale inaccettabile per gli standard europei. È cruciale garantire a Ilaria, Filippo e a tutti i detenuti i diritti fondamentali e un giusto processo. Nessuno chiede di non rispettare la legge o la sovranità di questi Stati membri, ma è essenziale che le stesse garanzie processuali e la tutela e la dignità umane vengano osservate in modo analogo in tutta l'Unione Europea. Grazie. Anche il deputato regionale di Sud Chiama Nord Ismaele Lavardera ha preso la parola a Lars per chiedere un intervento del governo regionale sul caso e convocare una riunione urgente attraverso il ministro degli esteri. Il giovane Filippo Mosca, che in queste ore è detenuto presso il carcere di Romania della sua provincia presidente, la provincia di Caltanissetta, quindi le chiedo anche un impegno forte di questa presidenza affinché il governo possa in qualche maniera intervenire presso il ministero degli esteri. Lavardera annuncia la presentazione di una mozione e si chiede come mai su Filippo Mosca non sia stata spesa una sola parola dal governo regionale. Abbiamo presentato una mozione proprio al governatore Schifani affinché possa fare valere il diritto a essere trattato in modo dignitoso di un cittadino italiano. Il governo regionale non ha proferito una sola parola per le condizioni igienico-sanitarie della dignità umana con il quale questo detenuto siciliano si trova ormai da diversi mesi in Romania. Abbiamo parlato tantissimo del caso di Laria Salis, ma non è stata proferita una sola parola per il nostro concittadino corregionale Filippo. Il silenzio di questo governo la dice lunga su come noi rispettiamo i nostri concittadini, i nostri corregionali. Grazie. Un uomo di 72 anni di Monreale è morto questa mattina mentre stava eseguendo alcuni lavori con un escavatore nel terreno di famiglia che si trova a Pioppo nei pressi della statale 186 a Palermo. Il mezzo si è ribaltato e l'uomo è rimasto schiacciato. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Monreale. Dopo l'istituzione dell'unità di crisi regionale sull'agricoltura voluta dal presidente Renato Schifani oggi pomeriggio una nuova riunione per fare il punto sulle criticità legate ai lavoratori del settore. Un settore che ribadisce Torino Russo, segretario della Flai CGL Sicilia, ha bisogno di innovazione e di investimenti per un nuovo modello di produzione agricola. Le criticità legate al comparto agricolo e zootecnico al centro di una nuova riunione oggi pomeriggio dopo l'insediamento dell'unità di crisi regionale a Palazzo d'Orleà. Tra i temi che saranno affrontati, la convocazione dell'Inps per superare alcune criticità legate ai lavoratori del settore. L'unità di crisi è stata istituita dal presidente della regione siciliana, Renato Schifani, con l'obiettivo di individuare le strategie di intervento per il superamento delle emergenze che sta avvivendo il settore, in particolare l'emergenza siccità, ed è presieduta dall'assessore all'agricoltura, Luca Sanmartino. Le mutate condizioni climatiche, ha rimarcato il presidente Schifani, ci impongono di intervenire nell'immediato, ma anche di pianificare interventi strutturali con la collaborazione di tutti i rami dell'amministrazione coinvolti. Non è più solo un'emergenza climatica, dice l'assessore Sanmartino, ma anche sociale. Oggi sono state convocate le associazioni di categoria e i movimenti di protesta che sono nati spontaneamente. Riflettori puntati sul depauperamento delle risorse idriche e sulla possibilità di aiutare gli agricoltori con i foraggi. Gli agricoltori vanno sostenuti, ma non al prezzo della salute dei consumatori e di una battuta di arresto della transizione ecologica. Il settore, al contrario, ha bisogno di innovazione e di investimenti per un nuovo modello di produzione agricola che ne consente il rilancio, ha detto Tonino Russo, segretario generale della Flai CGL Sicilia. Russo richiama i problemi ancora presenti, come quelli delle reti irrigue, lo spreco che si è fatto delle risorse del piano di sviluppo rurale. Quindi le responsabilità del governo della regione che richiamiamo, dice, sono quelle di esercitare il suo ruolo, cambiando rotta e passo per il rilancio dell'agricoltura siciliana. Ed è di ieri l'annuncio della presidente Ursula von der Leyen di voler ritirare il regolamento SUR che riguarda l'uso dei pesticidi e dei fitofarmaci in agricoltura. Ma che cos'è e cosa prevede il regolamento SUR? Sentite. La proposta di regolamento SUR che verrà ritirata dalla Commissione europea, come annunciato ieri a Strasburgo dalla presidente Ursula von der Leyen, risale al giugno 2022 e mira a ridurre l'uso e il rischio dei pesticidi nell'Unione europea, in linea con l'obiettivo della strategia Farm to Fork, letteralmente dalla fattoria alla forchetta, uno degli assi portanti del piano dell'Unione europea per una transizione verde dell'economia. SUR è un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e avrebbe dovuto sostituire la direttiva Sud, rivelatasi inefficace poiché attuata in modo non uniforme. Il regolamento prevedeva che, in vista del 2030, gli Stati membri fissassero i propri obiettivi di riduzione entro parametri definiti e le strategie per garantire che l'obiettivo europeo del meno 50% fosse raggiunto collettivamente. Previste anche regole più rigorose per applicare un controllo dei parassiti e il divieto dell'uso di tutti i pesticidi in parchi o giardini pubblici, campi da gioco, aree ricreative e sportive, percorsi pubblici e aree ecologicamente sensibili. La Commissione, all'epoca, assicurava che gli agricoltori sarebbero stati sostenuti dalla politica agricola comune dell'Unione Europea in questa transizione, avendo la copertura dei costi per cinque anni. Ma secondo la Corte dei Conti, dell'Unione Europea e del Parlamento Europeo, non sono stati compiuti progressi sufficienti nella riduzione dei rischi. Il ritiro della proposta di regolamento sull'uso sostenibile dei fitofarmaci, afferma Coldiretti, salverà il 30% delle produzioni alla base della dieta mediterranea, dal vino al pomodoro, messe a rischio dall'irrealistico obiettivo di dimezzare l'uso di agrofarmaci. Dello stesso avviso la CIA agricoltori italiani. Il regolamento avrebbe falcidiato le produzioni agricole, mettendo a rischio non solo la sopravvivenza delle aziende del settore, ma anche la sicurezza alimentare dei cittadini europei, si legge in una nota. Cambiamo argomento. Un'evidente pericolosità sociale con il reale pericolo della reiterazione del reato. Per questo rimangono in carcere i sei egiziani accusati dello stupro di gruppo avvenuto il 30 gennaio alla Villa Bellini di Catania. La tredicenne che ha denunciato la violenza vuole giustizia e non vendetta. L'ha detto il procuratore aggiunto, Ardita. La vittima dello stupro di gruppo, una tredicenne che era alla Villa Bellini di Catania con il fidanzato, diciassettenne, chiede giustizia e affiducia nella giustizia. Il procuratore aggiunto, Sebastiano Ardita, titolare del fascicolo sulla violenza di gruppo, ha definito la tredicenne determinata e ferita, ma desiderosa di giustizia, senz'altro più matura della sua età, non desiderota di vendetta e senza rendersi disponibili a riconoscimenti incerti. Questa ragazza, vittima di un reato grave, ha dato esempio di obiettività, ha detto il magistrato. Loro invece, le egiziani, di cui due minorenni, rimangono in carcere per l'estrema pericolosità sociale e per il pericolo di reiterazione del reato. L'orrore ha avuto fine solo grazie al tentativo della ragazza di liberarsi, scritto il GIP, Carlo Umberto Cannella, e che alla base della personalità degli indagati, poco avvezzi alla vivere civile, appare probabile che in assenza della disparata reazione la terribile violenza sarebbe proseguita anche a opera di altri indagati. Per il giudice, delle indagini preliminari è indicativo della personalità degli indagati che blocca il fidanzato 17enne della vittima l'avere agito agevolando e consentendo ad altre persone di violentare una ragazzina di appena 13 anni senza un minimo rimorso, anzi in alcuni casi assistendo alla scena. Il GIP ha invece deciso gli arresti domiciliari con il braccio elettro elettronico per uno dei sei perché ha collaborato con la giustizia, si è presentato spontaneamente ai carabinieri fornendo elementi utili alle indagini e al riconoscimento del branco. Il tragico episodio della villa Bellini ha turbato la collettività, ha dichiarato la prefetta Maria Carmela Librizi, e pur con l'immediato arresto dei responsabili impone una seria riflessione sulle iniziative da mettere in campo non solo per i profili della sicurezza pubblica ma anche a sostegno delle vittime con il pieno coinvolgimento del mondo dell'associazionismo. Oggi è previsto un sit-in davanti alla prefettura di Catania da parte di un gruppo di manifestanti donne che chiedono maggiore sicurezza ribadendo la solidarietà alla vicinanza alla vittima stuprate. Ha chiesto l'esercito e il Codacons, sono anni che rivolgiamo appena le istituzioni, hanno scritto tre giovani, ha osservato poi il Codacons, si sta pericolosamente diffondendo una cultura dell'illegalità incentivata proprio dalla carenza sul fronte della sicurezza a Catania. E' stato fermato dai carabinieri alla stazione di Milano dove stava per prendere un treno per 20 miglia il presunto assassino di Mohamed Muna, il marocchino di 27 anni, ucciso lo scorso weekend con diverse coltellate alla periferia di Paternò. E' finita a Milano la fuga del presunto assassino di Mohamed Muna, il marocchino di 27 anni, assassinato lo scorso weekend con diverse coltellate al collo e al torace in via Verga alla periferia di Paternò. Un connazionale della vittima è stato fermato per omicidio dai carabinieri dei comandi provinciali di Catania e Milano su disposizione della procura della Repubblica Catanese. Si tratta di un 36enne marocchino senza fissa dimora e le forze dell'ordine lo hanno individuato e bloccato alla stazione di Milano mentre cercava di raggiungere la Francia. I carabinieri catanesi lo hanno individuato grazie a indagini telematiche e hanno avvisato i colleghi milanesi che si sono precipitati in stazione bloccandolo prima che partisse su un treno Intercity in direzione del confine francese. L'uomo è stato rintracciato prima in piazza Duca d'Aosta, è stato seguito ed infine bloccato al binario 20 mentre aspettava il treno in partenza 10 minuti dopo per 20 miglia. A tradirlo sarebbe stata una telefonata. Il ricercato era stato già localizzato lunedì sera sotto la Madonnina grazie all'uso del cellulare ma poi era riuscito nuovamente a far perdere le proprie tracce per qualche ora. Mai fotosegnalato prima in Italia, l'uomo, ora accusato di omicidio volontario, non ha un domicilio, né documenti e neanche precedenti. Pare vivesse proprio nella zona di Paternò dove lavorava come bracciante agricolo. Il delitto è avvenuto poco distante da un distributore di benzina dove i due che si conoscevano e tra i quali da tempo c'erano dissapori si erano incontrati. Il fermato si trova ora nel carcere di San Vittore. È stato rinviato a giudizio e dovrà comparire davanti alla Corte d'Assise di Siracusa per omicidio premeditato e aggravato. Mariano Barresi, ritenuto irresponsabile dell'omicidio della cognata Rosalba dell'Albani, è avvenuto a Giarratana il 4 marzo dello scorso anno. Mariano Barresi siederà nel Banco degli Imputati per omicidio premeditato e aggravato davanti alla Corte d'Assise di Siracusa dove dovrà comparire il 22 marzo. L'uomo è accusato di aver ucciso la cognata Rosalba dell'Albani mentre dormiva nel letto della madre che accudiva la mattina del 4 marzo dello scorso anno a Giarratana. Durante l'udienza preliminare di stamattina si sono costituita ai parti civili le persone offese il marito e i tre figli dell'Albani. I legali delle parti civili hanno chiesto il sequestro conservativo del conto corrente dell'imputato poiché a loro dire c'è il rischio di dispersione dei pochi risparmi come è emerso nelle intercettazioni dei familiari. Il legale della difesa Sergio Crisanti si è opposto alla richiesta ritenendole infondate prematura il PM si è rimesso al giudice. L'avvocato Crisanti ha chiesto di sottoporre il suo assistito ancora una volta alla perizia psichiatrica trovando l'opposizione nelle altre parti e alla fine anche del giudice delle udienze preliminari che ha rinviato a giudizio l'imputato in corte d'assise. Il legale della difesa ritiene sia determinante la perizia anche alla luce delle testimonianze di tutti i testi e delle intercettazioni della moglie e delle figlie che si sono rimproverate di avere sottovalutato il malessere psicologico dovuto alla depressione di Barresi. È un delitto senza movente. Non ci sono costituite come parti del processo la moglie e le figlie di Mariano Barresi rispettivamente sorella e nipoti della vittima. Rosalba Dell'Albani La prima sessione Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 23 anni e 6 mesi nei confronti di Alberto Pietro Mulè accusato dell'omicidio di Paolo Larosa il 21enne di Cini si è assassinato nella notte del 24 febbraio 2020 a Terrasini è diventata definitiva la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo che lo scorso 17 aprile ha riconosciuto l'aggravante dei motivi abietti e futili che non era stata accolta in primo grado aumentando da 16 a 23 anni e 6 mesi di reclusione la condanna dell'imputato. Presentato a Roma il report un paese e due cure di vari nord-sud nel diritto alla salute promosso da Svimez in collaborazione con Save the Children dal rapporto emerge un sud con peggiori condizioni sanitarie meno prevenzione e mortalità per tumori più elevata. Nel sud Italia i servizi di prevenzione e cura sono più carenti minore è la spesa pubblica sanitaria più lunghe sono le distanze da percorrere per ricevere assistenza soprattutto per le patologie più gravi e l'autonomia differenziata rischia di ampliare ulteriormente le disuguaglianze nelle condizioni di accesso al diritto alla salute sono queste le principali considerazioni emerse dal report Svimez un paese e due cure i divari nord-sud nel diritto alla salute presentato oggi a Roma in collaborazione con Save the Children che ha ribadito come i divari territoriali siano evidenti già a partire dalla nascita. Secondo gli ultimi dati Istat il tasso di mortalità infantile entro il primo anno di vita è di 1,8 decessi ogni millenati vivi in Toscana quasi il doppio in Sicilia 3,3. I divari sono aumentati in un contesto di generalizzata debolezza del sistema sanitario dopo la pandemia da Covid-19 e anche il monitoraggio dei LEA i livelli essenziali di assistenza fa emergere i deludenti risultati del sud con cinque regioni del mezzogiorno inadempienti. 1,6 milioni di famiglie italiane vivono una condizione di povertà sanitaria e di queste 700.000 si trovano al sud dove la speranza di vita è inferiore di 1,5 anni e dove è più alta anche la mortalità per tumore perché si fa poca prevenzione e perché le liste d'attesa sono interminabili. Basti pensare che nel biennio 2021-2022 delle donne tra i 50 e i 69 anni che si sono sottoposte a screening gratuiti l'80% vive al nord, il 76% al centro e solo il 58% al sud. Dal mezzogiorno si scappa non solo per motivi di lavoro e studio ma anche per curare le patologie più gravi. Nel 2022 per tumore si sono spostati 12.401 pazienti meridionali, il 22% del totale, il 16,5% erano siciliani. Save the Children evidenzia numeri crescenti anche nelle migrazioni sanitarie e pediatriche. Un terzo dei bambini e degli adolescenti si mette in viaggio dal sud per ricevere cure per disturbi mentali o neurologici, della nutrizione o del metabolismo nei centri specialistici, convergendo principalmente su Roma, Genova e Firenze. Torniamo a parlarvi della vicenda del 57enne scrittore palermitano Giacomo Cacciatore affetto da sclerosi multipla che aveva denunciato a MTG di non avere ricevuto i farmaci da parte della farmacia territoriale dell'ASP di Palermo. La buona notizia è che proprio ieri pomeriggio i sanitari hanno consegnato a domicilio le medicine richieste da Giacomo che si è detto soddisfatto, ma ha rilanciato il monito all'ASP affinché non accada mai più a nessuno. Bene, adesso ci fermiamo, c'è una pausa pubblicitaria tra poco. Seconda e ultima parte del nostro telegiornale. Conferenza di servizi ieri in Prefettura Ragusa per unire tutte le forze del territorio ebleo nella lotta all'abbandono indiscriminato dei rifiuti e alle discariche abusive. Questura, Prefettura, Forze dell'Ordine, Libero Consorzio Comunale, Sindaci, SRR, Reato 7 e ANAS, tutti insieme per affronteggiare la piaga dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti che, lo ricordiamo, è in primis un reato punibile per legge, oltre che un oltraggio alla nostra terra. L'idea di riunire tutti attorno allo stesso tavolo è del questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, che ha convocato in Prefettura una conferenza di servizi presieduta dal Prefetto Giuseppe Ranieri per un esame minuzioso della problematica delle discariche abusive città per città. Nasce da una coscienza civile. La coscienza civile è di non girarsi dall'altra parte, perché magari non è una realtà di competenza strettamente operativa. Abbiamo noi redatto un documento con fotografie appropriate, individuazioni toponomastiche inequivocabili quanto a competenze comunali e provinciali e ne abbiamo trasmesso agli enti interessati a fine di poter rimuovere queste criticità. Certamente la rimozione delle discariche non è sufficiente da solo affronteggiare il fenomeno ed il suo impatto ambientale. È necessaria la ricognizione delle forze in campo, sia sotto il profilo strumentale che impiantistico, e delle risorse umane, nonché la verifica delle procedure amministrative, compresi i bandi di gara. L'incontro di ieri è servito anche per capire la disponibilità degli enti locali. Disponibilità finanziarie sicuramente, ma anche operative, cioè la disponibilità di agenti di polizia locale, disponibilità tecnologiche, ci dobbiamo organizzare anche ad attuare dei sistemi di videosorveglianza che il Ministero dell'Interno finanzia. Questo può essere un momento di iniziale per poterlo fare. Il Libero Consorzio adotta dei provvedimenti, i sindaci adottano i loro provvedimenti, così come l'ANAS. Bene, c'è forse da farli collogare e sicuramente si partorirà un qualcosa di positivo. 40 migranti con due diversi natanti sono giunti nelle ultime ore a Lampedusa e 22 con un gommone salpato dalla Tunisia. Sono arrivati fino a Calapulcino dove sono stati rintracciati dai militari della Guardia di Finanza. Hanno riferito di essere salpati alle 23 di lunedì e di aver pagato 3.000 dinari tunisini per la traversata. Una motovedetta della Guardia Costiera ha invece soccorso una carretta di 5 metri partita da Sidi Mansuridi in Tunisia con a bordo 18 tunisini e bengalesi che hanno pagato invece da 3.000 a 6.000 dinari tunisini. Cambiamo adesso argomento. Entro il mese di febbraio i lavoratori della SPM di Modica transiteranno alla nuova società. amministratore della nuova società è Angelo Giallongo, già revisore dei conti del Comune. Sottoscritto tra il Comune di Modica e la CGL l'accordo per i lavoratori della SPM a renderlo noto è Salvatore Terranova del sindacato modicano. Entro il mese di febbraio 2024 transiteranno alla nuova società costituita con l'impegno formale da parte dell'amministrazione comunale per poi procedere all'assunzione. Prima però l'approvazione degli esercizi finanziari. Non solo, c'è stato anche l'impegno formale da parte dell'amministrazione, ha fatto sapere ancora Salvatore Terranova, di corrispondere in un tempo quanto più breve possibile ai dipendenti gli stipendi arretrati mediante apposite rate mensili. L'accordo verrà sottoscritto da ciascun dipendente entro il prossimo 10 febbraio e inoltre si concorderanno le modalità di pagamento delle spettanze per i 29 dipendenti. Prima della SPM, che da qualche mese sono stati trasferiti alla società Iblea Acque, cui saranno liquidati i salari pregressi e il TFR maturato. Amministratore della nuova società è Angelo Giallongo, già revisore dei conti del Comune di Modica. A esprimere soddisfazione il sindaco Monisteri e l'assessore Saro Viola, che parlano di impegno costante e di continui confronti con il mondo sindacale. Adesso nuove interlocuzioni con le altre sigle per chiudere, una volta per tutte, l'annoso problema della SPM. L'Istituto di Istruzione Superiore Principi Grimaldi di Modica ha inaugurato due nuovi laboratori e The Ors per dare l'opportunità di una migliore offerta formativa e operativa agli studenti impegnati negli studi dell'ospitalità alberghiere nell'enogastronomia. Soddisfatto è il dirigente scolastico Bartolomeo Saeitta, che ha parlato di una grande sinergia nella realizzazione dei nuovi laboratori. Uno speciale andrà in onda nella rubrica 20, subito dopo questa edizione di MTG. E' open day all'Istituto Archimede di Modica per illustrare alle famiglie e agli alunni l'offerta formativa della scuola in vista della scadenza del termine delle iscrizioni del 10 febbraio. Un'offerta formativa molto ampia e diversificata, che comprende al suo interno ben cinque indirizzi e due articolazioni al triennio. Anche sull'offerta formativa di questo istituto andrà in onda un approfondimento all'interno della rubrica eventi. E con queste due notizie è tutto, MTG termina qui. Io vi lascio alla programmazione di Video Mediterraneo e alle notizie del Breaking News del pomeriggio. Buona giornata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS